Se dovesse perdurare questa situazione, cosa si verrebbe a creare per la vostra attività? Per noi comporterebbe un danno a livello economico non indifferente, perché la gente quando viene in un posto come questo non viene solo per mangiare, cioè non ha attrazioni turistiche in particolare come può essere a Genova, che hai il porto e quant'altro. Qua vieni per goderti la natura, i boschi, per farti una camminata. Qua ci sono tante possibilità di camminamenti, escursioni, trekking? Per esempio l'alta via dei Monti Liguri che passa qua dietro, che sono dei sentieri veramente belli da vedere, magari non valorizzati molto, però comunque belli e alcuni anche tenuti bene, come per esempio quello che dal Corno va su fino al Bado. Già in questi giorni si vede meno giro di persone? Se volendo guardi, vedi la cima dei monti, non passa praticamente più nessuno. Il concetto di chiudere i boschi vi convince? Può avere senso per via del tipo di virus che è quello della peste suina, però è una misura secondo me un po' drastica. Si potrebbe provare a contenere di più la questione battendo di più, facendo battere di più i boschi a persone del mestiere, guardie e quant'altro, per cercare di isolare i casi malati e bloccarli sul nascere, ancora prima che possano girare per tutti i boschi. Voi naturalmente sentirete anche i vostri colleghi, persone che lavorano agriturismi qui nella zona, nella valle, che preoccupazione c'è per le prossime settimane? La paura principale è che specialmente per chi è del settore facciano ammazzare tutte quante le bestie che hanno. E poi oltretutto la quarantena di sei mesi, perché come dicevo prima è un virus che dura tantissimo, rimane attivo per un periodo molto lungo fuori e nonostante facciano sanificare tutto e quant'altro, c'è il rischio che l'allevamento in cui è entrato il virus possa rimanere infettivo anche dopo due, tre mesi e ci mandano i maiali dentro e si riammarino di nuovo.